ciao amica ciao amico mi chiamo marcello faccio questi video perché sono un appassionato di moto e quindi se vuoi seguimi sul canale ieri mi ha scritto l'amico che è un canale che si chiama dora balta quindi non conosco il suo nome chiedendo di parlare della beta alp x del 2024 e volentieri ne parlo abbiamo già visto l'altra versione la 4.0 parliamo adesso di questa versione sostanzialmente le moto sono analoghe madre vedremo anche appunto di evidenziare le eventuali differenze che ci sono quindi la beta presentato sul mercato la sua alpe con due nuove versioni dello stesso modello una delle moto che più di alte si propone per svariati utilizzi si fate si tratta infatti di una moto che ha dalla sua la semplicità l'intuitività che con cui anche distinguersi perché forse unica sul panorama delle moto ed è guidabile 18 anni con la patente a2 qui è una moto snella pratica sia per andare al lavoro come per il fuoristrada l'alpe 4.0 è la più adatta quindi a frequentare proprio il moto alpinismo quindi dedicata a quello che è la disciplina sportiva del moto alpinismo mentre la versione x che vediamo oggi ha caratteristiche leggermente diverse anzitutto la ruota anteriore invece che essere 21 pollici da dita il 19 pollici quindi a un utilizzo più eterogeneo si può definire quindi come moto di tipo scrambler perché è legata a un utilizzo che può essere cittadino ma anche per un turismo a breve eventualmente anche a largo raggio dipende poi dalla dal tempo che sia a disposizione però comunque anche destinata a questo utilizzo non senza ovviamente la possibilità di qualche percorso in fuoristrada magari su qualche strada bianca quindi la prima differenza è sulle ruote le ruote sono all'anteriore da 19 pollici e 17 pollici al posteriore rispetto alla 21 pollici 18 pollici della versione alp 4.0 inoltre le plastiche sono leggermente più rastremate quindi una forma diversa il faro è circolare dopo lo vediamo a led mentre la versione alta 4.0 una forma a x quindi che il faro per distinguere due moto penso è leggermente diverso e anche per garantire forse un'illuminazione maggiore visto l'utilizzo prevalente che potrebbe essere quello stradale poi anche i colori sono diversi perché per la versione appunto che vediamo oggi cioè l'alp x sono il grigio e grigio scuro mentre per l'altra versione l'alp 4.0 sono il rosso o il bianco ulteriore differenza è la mappatura del motore che si adegua appunto a quelle che sono le caratteristiche d'uso e in questo caso della moto l'uso scrambler il motore è stato progettato ex nuovo quindi in collaborazione con la toy taio motor cycles ed è stato sviluppato proprio in modo specifico per questa moto nelle due versioni è praticamente lo stesso motore quindi vediamo a questo punto la moto nell'immagine che la rappresenta eccola qua e partiamo quindi dal motore che un monocilindrico quattro tempi raffreddato liquido con alcini dati 348 cm3 la distribuzione di albero e quattro sono le valvole potenza massima di 35 cavalli 9500 giro al minuto non è stata dichiarata almeno per ora la coppia motrice il telaio perimetrale in acciaio mentre la sospensione interiore formata da una forcella idraulica colistede 43 mm esclusione di 185 mm il reparto sospensioni è lo stesso al posteriore poi è presente un mono ammortizzatore con la regolazione del precario con l'escursione della ruota in questo caso di 195 mm allora la sera che ho riportato alta 165 mm non ne sono sicurissimo che sia la stessa altezza ma più o meno le dimensioni sono quelle eventualmente farò sapere in descrizione per quanto riguarda i freni invece la moto dispone di un freno disco con diametri 290 milioni anche i freni sono analoghi 290 mm con la pompa e la pinza della nissi mentre al posteriore il disco è da 220 mm sempre con la pompa e la pinza della nissi le ruote infine a raggi sono da vi hanno detto da 19 pollici all'anteriore e 17 pollici al posteriore il salbatoio anche questo uguale la travestione capacità di 11 litri il peso di 142 kg e secco qui c'è un aumento di peso di 2 kg rispetto all'alpe 4.0 è stata dichiarata per entrare le moto una velocità massima maggiore di 130 km orari e un consumo dichiarato di 28,5 km con un litro di benzina quindi sicuramente una moto anche parca nei consumi il prezzo per le due versioni uguali uguale è di 9.790 euro se ti è piaciuto il video metti un like se non ti è piaciuto dislike ma iscriviti al canale e attiva la campanella per due motivi prima gratis non ti costa nulla favorisce la diffusione del canale siamo quasi a 3.000 iscritti quindi mi piacerebbe appunto arrivare a tale cifra prima delle feste natalizie l'altra cosa che naturalmente faccio un video al giorno come puoi ben vedere e quindi se sempre aggiornato aggiornato sui contenuti qui sotto i più commenti sono sempre graditi ciao buona serata